Vento vento Siete un po' forti Abbiamo vento Ma buono? Non parla? Non so che parlo Stavo sfottendo Un attimino mi ammasso Però non mi risponde Ah Perché? Cazzo Vedo Mmm Mmm Aspettate Cazzo di gioco Aiuto Ma divento Divento mancino Forse gioca così Vedrai Oh Però ti ho chiamato oggi Si ma chiamato Chi? Eh il tuo amico Tu Si si ma chiamato Si si ma chiamato Si si ma chiamato Ma ha parlato Di te Di Luigi Che Quello si era nascosto Pensava che si era nascosto E' già morto Poverino Ma il mio amico Se ci si ma chiamato E' già morto Che ci stava E' già morto Che stava Che stava Noi sentiremo. Ho fatto il culo adesso a volley. Ma dove? A volley, qua. A gioco o a calcio? Non è bravo, è abituato a giocare con Simone. Ecco, arrivo uno, Buaro, aiutami, aiutami. Ce l'ho qua, ce l'ho qua, ingegnere, davanti a me. È sparito vicino all'autobus. Guarda la portellata. Eccolo. Ce n'ho due, ce n'ho due. Ce n'ho due. C'è uno, un cecchino, in fondo, in fondo, a destra. Fidi, non ti muove, non ti muove. In alto a destra, guarda, piano piano. In fondo, in alto a destra. Spero che ce l'ho a di là, fermo. No, a due a di. Gio, Gio, come lì? Ho fatto già a terra. Fidi, l'hai preso? Eh? Fidi, l'hai preso? Cosa? Fidi, cecchino. Non ho capito, scusa. Fidi, Fidi. Fidi? Eh, no, non era lui. Si, c'è un altro però, c'è Fidi, che fa il cecchino. No, no, non ho preso neanche un l'ho risparato. Senti. Ah, sta da loro nel container. Nel container, Buaro. E uno è arrivato a me. Arriva uno dall'acqua lì, eh? Ancora? Da loro nel container, Buaro. Adesso il calzato è vicino al pullman. Sono due. Ma c'è l'ingegnere. C'è un ingegnere lì. No, no. Prendi quello inizio al pullman. Eh, ok. Fidi o nel pullman. A loro. In base a loro. E io gioco con una mano. Ecco, si è torto. Si è torto dalla... Si è spostato dal container. Arriva il carro. Eccolo. Guarda com'è lontano. Cecchino laggiù. Ecco, si sta andando sulla montagna. Questa montagna centrale è da loro. Quella centrale. No, là non c'è il mortaio. Guarda, eh. Dove c'è il mortaio c'è quel cecchino. Fidi. E' morto. No, diceva che io quando ti chiamavo che eri scarso, tu ti incazzavi, cambiavi il calo e ammazzavi la squadra. I fucker. Io? Così lo. Si, si. Così diceva. I fucker eravate voi. Te, Luigi e... Vabbè che cazzo, insomma, che cazzo me ne frega a me. Non ho capito un cazzo. Ho capito quello che Luigi, se... Gli account che ha... Mamma mia quante cose. Io ho detto, vabbè... Eh, beh... Da me mi piace così. Lo sai. Ha detto che tu non hai le prove. Che lui sapeva tutto. E tu? E tu gli hai mandato un messaggio. No, no. Non hai le prove per dire quello che lui ha. Capito? Ah. Eeeh... E vabbè tante cose ha detto. Vabbè, ha detto uguale. Non hai detto che l'ho già messo? Eh? No, no. Te l'ho fatto parlare. Si è un po' sfocato. Perché? Poverino. Eh, no, dai. Vuoi che ti dico com'è stata la cosa con gli altri account? Lui dice che l'unico che sapeva era Kami, Boaro. Eeeh... Sapevano tutto. Sapeva cosa? Di cosa? Questa cazzo di account qua. Io non lo sapevo, eh. Eh, lo ha detto quello. Lo so. Ma lo so che lui si inventa tutto. Ma lo faccio parlare. Ma io lo so perché l'ha detto Toro. Cioè, l'ha detto Toro su... Kami. Esatto. Quando ha messo il dito ho scoperto che... Nooo. Quella è un'altra cosa, Boaro. Quella è una cosa, diciamo, adesso. Ma lui dice che nel 2018 Dice che Nuto, Tyred e altri hanno fatto la squadra FAQ. Ti ricordi? F, U, K. 2018. E dice che l'hanno fatto per ammazzare a noi. Capito? Non sa di fatto, io avevo visto solo Tyson e basta. Eh, Tyson che dice che Luigi l'ha fatto apposta per venire a romper cazzo a noi. Quella era vero perché ci ammazzavano i FAQ. Venivano e ci ammazzavano. E vabbè. Me lo ricordo. No, no, no. No, no, no. Non è vero. Ti lo posso dire anche se vuoi. Come è stata la storia dei FAQ. Che io poi sono entrato, ho messo FAQ. Aspetta, aspetta. Ho messo FAQ e ho cominciato a ammazzare Brucke. E quel giorno Brucke ha rosicato. Sapito? Ha lo fatto sbroccare. Ha rosicato perché io ho messo FAQ e ammazzavo loro. La Rey, no? Lui ha rosicato di brutto e abbiamo litigato quel giorno. Per quello motivo. Sapito? Eh. Sì, sì, sì. Sì. E tante cose mi ha detto che... Che cambiava... Appena io dicevo che Nuto era scarso, lui usciva, cambiava caldo e mi ammazzava. Ma quanto cazzo che... Giucava sempre lì. E così ha detto. No, ho registrato la videochiamata. Però non mi va di mandarlo. Ce l'ho la videochiamata. Eh, sì. Ce l'ho, ce l'ho. Ho registrato tutto quello che mi ha detto. A voi, Lino. Con il FAQ. Con FAQ. Ti ho detto, perché te la prendi? Anche se fosse tanto... Tutti rosicano. Anche se loro dicono quello. Lascia di rosicare. A me piace che rosicano. Sì, sì, sì. Tanto a me appunto uno... A me non me ne frega uno. No, lui che... Ancora dice... Forca miseria. Ce l'è rimasto un po' male. Però lui che scrive cazzate. Io ho detto, se te che scrive cazzate. Eh, appunto. Guarda uno qua. Buono. L'hanno preso? Ah, ha preso dei Borage. Uno sull'acqua, buono. C'è un altro qua. Ah, c'è un altro. Sì, sì. Bascardi! Eh, eccola che arriva. Vaffanculo! Eh, questo è un altro della squadra FAQ, eh? Eh, quello diceva. Eh. Vaffanculo tutti! Sì, eh. Però guarda come è stata la cosa, eh. Dai che ti racconto, no? Eh, ok. Io, Luigi e Tyrant abbiamo fatto la squadra. Eh, lo si ha detto. Lo si ha detto. Lo si ha detto. Sì, sì. Ascolta, ascolta, ascolta. Abbiamo fatto la squadra, eh. Abbiamo fatto la squadra per andare a cazzighiare e a fare trololò. Quindi? Quando non ce l'avevo, avevamo niente da fare, no? Non volevo, non ce l'avevamo, avevamo voglia di giocare sul serio. Eh? Eh? E poi in un giorno, dopo che ti sei litigato con la squadra, con lui, no? E' uscito dalla rei. Ma scusa? Adesso è uscito? Lui si va a parlare di due anni fa, quasi. No, ma quale cazzo due anni fa? L'anno scorso, a decembre, se non sbaglio, a novembre l'abbiamo fatta la squadra. Sì. Ehm. Dopo che ti sei litigato tu, no? Io ero con il mio conto Nuto, e Luigi e Tayrid erano con Delpac. E' entrato il bastardo e ci hai sentito parlare, no? Sì. E' una scusa, no? Lo sapeva già chi siamo, no? E poi è iniziato. Dai, posso entrare anche io nella vostra squadra? Lui ha detto che... Lui ha detto che... Lui ha detto che... Che voi... Che lui... Voi l'avete chiesto a lui. E lui ha accettato. PASPAMPULUTORO! Altretto così. Guarda chi è che di a Luigi... Chi è di a Luigi anche a... Da taierale di a��opolo. No! Altretto così che lui ha appena vienuto per vedere che fa bene. Che ce fa bene. Che sada fan. Spune, Boioane. Casus. Casus, ui. Nu ma lascia tu mi faci un casus. De che cosa. spunei, spunei, spunei cum a venit Toro si a spus im place sa joc cu voi ca voi stiti sa jucati ca va distrati, ca im place ca echipa voastra este unità hai, hai, hai spuneam acum ha, hai spuneam acum ca voi faceti carterica ca va distrati, ca voi jucati de fan, ca nu stiu ce asta spune, hai spuneam acum ala chidicevo io, no? chidicevo a lui che dai che a me piace da giocare con voi che voi sapete come giocare siete uniti che giocate io giochiamo per divertirci, no? e lui ha detto eh, lui ha iniziato che voleva venire nella nostra scuola e poi ho la videochiamata registrata poi ho detto e abbiamo detto tutti i tre oh non dire a nessuno perché solo noi tre lo sappiamo no? nessun altro non sa infatti non ha detto nessuno lui ha detto adesso? no 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 ha detto ha detto, ha detto no 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 ha detto ha detto guarda dopo un giorno due se non sbaglio ma chi l'ha detto? stavo giocando stavo giocando stavo giocando stavo giocando con il mio account con quello lì e sono entrato in squadra con Villanueva sono morti sono morti tutti i tre sono morti tutti i tre sono morti tutti i tre però Villanueva mi ha detto Villanueva che c'entra? eh, Manibella eh, ma che c'entra Villanueva? ah lo sapeva lui E' questa è la mia, che mi ha detto, ciao, nozù, coluici Ah, è detto lui alora Ehi, hai capito? Ehi, mamma mia, quanto chiacchia? Non è buo di niente Ehi, di la città, cea no roto le pale, non è? Un colo torno Ehi, ma non è un tema, o sa vedem pe Whatsapp Am Whatsapp-lo Ehi, non stiu, io ho messi in gruppo Bà, am messi si io dar a...mā scart Bă, unde si mai o stiamo frate? non lo stai tu sono un fortice nemisi non capisce niente da dove sparo no figli ho sentito sparare non so da dove però eccolo dall'acqua acqua a sinistra a sinistra sta attraversando l'acqua c'è bisogno di munizioni sinistra dove? anche altezza eh adesso non lo vedo più stava attraversando l'acqua sinistra altezza ponte o più da loro? no da loro vedi dove sono delle rocce a sinistra si due rocce c'è un'isoletta in mezzo ecco lo vedo è mio forse ci sono due forse mi è scappato ma oggi oggi no ancora ancora ecco siamo sei andato dietro le rocce eh beh c'è uno qua uno all'isoletta centrale ora lancio il mortale io guardo ecco è uscito è uscito e sta andando a sinistra un cecchino eh buono io non riesco a mirare veloce io non voglio spararlo io non voglio spararlo di qua perchè l'ho preso altrimenti c'è un altro ah lo vedo lo vedo nel boschetto sta eccolo eccolo guarda eccolo è uscito fuori no non lo vedo non lo vedo più nemmeno io adesso aspetta lancio il mortale e io non trovo il squadro e io non trovo il squadro non è morto dove è andato? lì sta però un bell'adosa mortale ecco si è spossato vedi non sembra lì sta correndo ma non riesco a mirare dove si va? è andato dietro le rocce è andato stai aici in stanga un mijlo cu ape e o insula cu niste bolovani 2-3 bolovani in spate la bolovani e un sniper aaa acolo tolalt ok ok am vazut-o non lo vedo 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 assicurare c'è lui se ti vede che non sai che cosa ho fatto ok ora trovi ora trovi via è trasfitto dai dai tu vai grazie mi sto muovendo sotto le tally seduti più strade l'ho preso no non è lui non mi dà assistenza non è lui non è lui e aaa nasci insieme a lui ah no da dietro cazaro è Wally cazaro è da da 100% uite ma è dupo piatra ahhh è scusato, l'ho trovato l'ho trovato, l'ho trovato è toato dietro, Cassius si l'ho trovato ah è papi lui Wally era Wally è morto, è papi lui anche due, due monte Fidi è morto Fidi è morto, l'ha ammazzato di grande era montagna destra era montagna destra azi cazate am fost, non stai, monote azi io l'ho trovato la gramada l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato ea ce faci montagna? ce sta ti doare la sosieti? ahhh l'ho trovato, l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato questi sono noi in base nostra mai vine un sniper pe partea de aftara sus pe monte monte? arriva un sniper dar la destra sunt la montagna si si appena sta vicina hai azi mai ti nie ti nierò ti mai s-ai morto al noi coi el capitano el capitano carso nu carso bai sniperul pe partea dreapta datu io uite ma l'ai luo ma non stiu unde e ma ma l'ai trattato in spate da ma l'ai luo ma l'ai luo l'ai luo l'ai luo l'ai luo l'ai luo l'ai luo l'au luo l'au luo l'au luo lo ne metto eugeniere un attimo ragazzi controla di quello adica dico m'ho dato e a pleca de quello non dov'il cazzo se li contro poi non ce n'è nemmeno il ce l'ha ripensato de more e allora andato la stessa hai bisogno di munizione ? no no non sto morto dai ti ha scusato questo aici 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 aveam equipa in 2008 aici aveam equipa in 2008 e' acum 2 anni in urma c'è aici porun aici 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 Alex, veste-ti partea cealanta in dreapta e' un sunnic acolo, cumva cu alia aici 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 un poate ii Uffa, guardi un sniper dupo mine Ai dato Arriva il carro Sì, il sniper potrebbe essere Dilo forte Dilo forte Dilo forte Papapaz Vaffanculo Eccolo, l'altra volta L'obiettivo bravo, non c'era Eccolo a lungo Ma lua Ba da, ce frumos ia data Că eram cu el in space Ia dată Ca cilgi Video Ia te-am afirmat Da, ma, de-am ridicat Da Ahahahahha Non fai attenzione No, non lo le ia, non lo vedea din cauza ta Trage uno Sì, non te vede va, ia zicire, uite ma lua Ma lua, si lo vede, si lo vede, si lo vede Sì, sì, ti lua, si lo vede C'è uno fu la montagna Aiuto, aiuto, montagna da me Nu ma mai dau dupo tine, ma ales, gato Dove, te rog, dove sei Bò, te rog, dove sei Bò, no Bossier, da me la mare, n-ai gassit si tu No, non lo vede a destra eh Montagna destra No, non lo vede a destra eh Montagna destra eh Yo voy a chutar a Cortelli pa' Manda un mensaggio a Bò Lo visualiza Bò, manda un mensaggio a Bò 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 A Bò Cortelli Ah, ma, ma, Bò Poveri A chi no po', ahah Ha visto che non guidava più lui Vabbè il di mare A me non me lo da Narisa non me lo da Peggio, il di Giovanni fa le scuretze Gioann, sei il bastardo Madonna ma dopo li metto su Youtube Ciao anche per me ma non è vero una mano una mano una mano mezzo dito mezza coscia un po' tutto e che perché 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 con il campionato che cazzo mi capita oh c'è uno qua l'ho preso a Thailand ah, dove dove? qua qua nell'acqua da dentro l'ha preso diceva si qua qua ah è quello sulla montagna lì no vaffanculo è a destra sulla montagna che l'ho visto però non ho fatto il tempo mi hanno sparato con il carro lo trovo nella casa ah c'è uno qui l'ho vedo sulla matta non mi vedo che segno è stato guardalo guardalo come sta sull'acqua qui guardalo quello che ha sparato a nudo no a nudo a Thailand c'è quello lì su e qui sul col carro gioca elicottero e il carro ah 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 adesso col carro armato ah 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 fa colave che tipel metti il cittadino il cittadino ah, quella, quella il cittadino il cittadino chi ti sta, chi ti sta io non ho, chi non c'è ma non ho capito, non ho capito ma non ho capito ma non ho capito ma ho capito Sì, è il vantaggio Il vantaggio? Ma, stai, ma duc la la lanta RPG fix Quanto poti scegliere E' il vantaggio, e' il vantaggio E' il vantaggio E' il vantaggio E' il vantaggio Pagno Papillon, il vantaggio è sempre Da, dai dai E' il vantaggio Ok, scambio Questa glorifico E' il vantaggio Dai 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 che l'ho matato Non ci puoi dare incontro Sì sì Quarta ria di mica in vista Si, potrà sbloccare E' il vantaggio Insieme! Se c'avevo una mano libera L'altra libera Perca puttana Mi lasciavo scampo Eccolo No, ho preso la palma Vaffanculo 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 Vado a cercare A coltelli con Arrivo Aspetta, finiamo questa Finiamo questa Ah, vedi che sono nell'elicottero adesso Sì 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 E' morita E' morita Fuori tempo Ti ha armato Pe dreapta C'è anche il cato di brone Qui Arrivo in bravo E' un cato di brone E' un cato di brone E' un cato di brone C'è Ah, è lì dietro Spostati gioco Che non vedo niente in bravo Granata, Granata Grazie Megazor Abbiamo un Megazor C'è uno con il carro armato qui Mettiamo un po' di cioccolta E' un bravo, è un bravo Ho il coglionato lì No Sono ancora lì Perti un po' di più Eh, non c'è un mira Stanno dietro la casa al muro Ah, Megazor Chi è questo qua? No, non lo so Non c'è un bravo Non c'è un bravo Non c'è un bravo No, non c'è un bravo Non c'è un bravo No, non c'è un bravo Di nuovo Che figa No, non ho ammazzato quello Che sono un bravo No, l'hanno presa Stanno distrutto Stanno distrutto Cazzo non posso uscire Un bravo Ana, il paio Se me salrez Non c'è un bravo Arrivano da la sinistra da l'acqua cioina lì Aspetta del cazzo Aspetta del cazzo Sia Tornato Aspetta del cazzo Prendete lico l'elicottero però, ecco, l'hai ammazzata da detto, Megazade si, 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 l'elicottero c'è qui eh, arriva anche il carro, il carro morto distruggetelo, no, lo ruba affanculo che mi hanno sparato adesso è che il netto C4 lo prendono l'hanno distrutto, la c'ha stato ah, ok, due tanker di intervento oh, in questo modo è un Megazord vabbè, questi non escono dal carro, dall'elicottero che scarsa l'elicottero, carro l'obiettivo bravo lo curerà ancora a lungo e mi portarlo ahahahahah fuori Megazade fai attenzione che l'ho messo su C4 questo qua eh, le taglia una gamba, amore no, attenzione, attenzione, behind attento, nudo ah, si, mi ha sparato già wow, wow ho pure bisogno di punizioni non ti muove troppo eh non ti muove troppo munificioni in episodio eh, nudo eh, tu non muove non muove ok eh, colonia nuaa aa, dò te mai ceva cum dracu ne alò pe amante odate eh, apropo astea dat exact in spate in asia ovo se pot no carica carica lasciamo le attività ah hanno preso il caro armato si si ecco l'acqua ecco l'acqua ecco l'acqua ecco l'acqua guarda quanti sono d'altra parte guarda quanti sono d'altra parte guarda quanti sono d'altra parte cazzo cazzo no 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 corri corri ah dai 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 stai in 17 e 11 dai ui dai dai que si erano 4 erano 8 e si nano girando con esta cagata di alicottero è Wally, Wally, non è uscito all'elicottero si è Wally e Wally Wally e John Wick e Tanki, elicottero meno male che non ce l'hanno una bomba nucleare nel gioco a volte giocavano sempre con quella una nave passa passa pure una nave è andata dietro sono qua dietro eccoli arrivano, 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 stanno qua lo so io stanno ancora c'è nell'acqua Wally e John Wick nel toro prendete, nell'acqua c'è Kino mi è passato vicino via lì sei presi? no stanno qua stanno qua eccoli c'è Wally c'è Wally stai attento c'è pure Wally intorno dove è andata? sicuro sta qua non so aspetta che butto un sensore come è andata? come è andata? ci sono Wally dove è andata? ah stanno in base stanno in alfa niente stanno in base in alfa stanno in alfa? si nella casa di alfa stai un bravo ah aspetta allora ah si madonna quanti sono lì si fa un po' da loro eh si sono tutti lì eh tre e quattro sono io te mordretti io te mi ricordo è alfa in alfa in alfa ma lo sfido Wally perchè non ce lo li sta ma lo sfido Wally e poi si va a farlo ci facciamo un sacco e possiamo proteggerlo buongiorno a tutti ecco mi sono contenta ma ultimamente lo dico spesso ma oggi è vero no se non potevo sdato no te adesso mi si San этих cè uito il costato scura salacea ma uita m ahahahah ahahahah come cazzo starmi asco scura sdato che sono colorato di Wally questo volo in dicembre se nos va dall'italiano eh? si dall'alqua, nell'alqua, ancora nell'alqua andiamo, andiamo, andiamo a corterla andiamo, andiamo, andiamo a corterla andiamo, andiamo 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 che tra le minore si st帶 la un calcolo la legisla si è si è perchè senza non fare un pezzo salito eccolo Guoli ce l'ho te lo devo portellare te lo portello con una mano Guodo non va l'alpha 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 salito la ora salito la montsovra sono 3 la destra, la destra la greapa ca un pic un bravo un bravo il bravo era uno per la paralizia maestro 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 i maestro . . . . . . . . . HAHAHAHA Pietro dietro dietro oh che peggio noi dai peggio peccato di merda ahhh via dietro mi ha sparato il tempo guarda 12 cazzo 12 d'altra parte arrivo dove sei? 12 aspetti ahhh cazzo nooo nooo stavo fermo a guardare quanti eravamo 12 aspetti cazzo 12 aspetti oh sicuro è andato a piangere che è come va lui tanto prima o poi lo capiranno breve ah tutte e tre devo guardarti si qualcuno li invita qualcosa capita devo accortellare vuoli voglio accortellare vuoli te devo beccare te lo beccherò eh no vaffanculo ma dove cazzo questo qua ma l-o amat dupo mezo ora me-a amat acolo granada ok caz ma dura boam a finito già no si ma perché sono le tiii altri eee eee non si ma un solo io stau contro di uno poi ce ne va ce la alfa A 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 Oicci ma Voli è in casa aia rossi, delunga Alfa In Alfa? In casa rossii, vau, voli ce ne la casa rossi, vicino Alfa Lo vido, lo vido, lo vido, lo vido Mamma, ma da! Ma ca vei che è loco sui colo l'algo Ma da' astea scuriturii Cari ma Acce questo è un sacco per lollo Helen Erio nato l'ont impatto, avrò muerto No, peace, i-all đã trasc camera con si tu No ho str生uto pe elaw 과asi mi-e passata il f씨 C'è i-am dato, ti-all ha dato che se lo��ja con ti Ti ing hero Po? Arriva un altro Uite, uite, in dreapta, in dreapta, detriti Arriva un dal acqua, voli dal acqua con tutti dal acqua, lado bravo Ma, facci Ma, facci Cum dracu mai lua ma? Ma, stiu ma, ma, la ma impuscaz spie Stai, stai, ma, 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 da, ma, ma, da, ma, da Vieni, ma, 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 da, ma, da Ma, dietro, ma dietro Cu, da, ma, da Dove, dove Qua qua, qua dietro, in questa parte Mamma, fare gioco! Uita, uita, uita! Stai, sei ben soluta! Sì, io mi sono ben soluta! Pure io! Eh, l'ho visto il bastarde che fa giocare Eh? Fa schifo quel fuggito Sì, lo so, lo so Perché se il bastarde lo gioca Arriba, arriva, 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 arriva A destra, a destra, a destra, a destra A destra, a destra, a destra Ah, affanculo Ho visto che non ci vedo molto bene Oh, mi fa male la mano sinistra Oh, mi fa male la mano sinistra Oh, mi fa male la mano sinistra Fanno male i muscoli della mano sinistra Ho capito? Ho capito? I dengini mi fanno male Che brutta cosa Sì, sì, sì C'è uno qua C'è uno qua Fanno male Machinima Fanno male Fanno male Faref Fanno ivenienti Fanno i entra Semerà Nel Fanno Fanno i Aolei! Aolei! Un bel cazzo in casa, o fa mai concentrati Da ... Da, da, qui un bel cazzo in spate Ah! F*** in culo me è nascurato! Dottica! 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 Sii ma zottili che scoledate appena hai il guarito nooo sempre dentro le case mamma mia grazie ah c'è una grenata corre io le vado no ui sempre dentro le case e anche adesso arriva dalla montagna ha incaschiato forse stava usando un langer aici sono 12 12 adesso sono entrati sono entrati un altro che ha aperto i punti usa il langer usa il langer usa il langer da dove cazzo mi ha visto questo qua dentro casa da dove cazzo guarda guarda cazzo 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 cammino nel lato cazzo cazzo dimmi quando va via cazzo 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 numero intendi cazzo oh uh Bubba in Cosa è caricato? De lunga Alfa Sto mergim acolo In spate, in spate, in spate, nu stiu cine era in fata mea Alfa in culo Sì, signor! L'ottesivo prova dei guai! Andate qualcuno! Adesso vado a fare incontri le animi Ma era un carro poi Sì, non sono usciti dai carri, dall'elicottero Sì, niente, solo così hanno giocato E lui con il carro Dentro le case, va lì Il carro Sì, sì 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 Attiva Sì Sì In spate, in spate, in spate! In altra volta Sempre il caso In Alfa Cosa è Chi mi ha fregato l'arma? Cosa è? Cosa è? Qualcuno ha fregato l'arma? Stia, no? Ah, dai è mort, quale Cosa è mort Cosa è? Cosa è? Cazzo! Coronavirus Non è di corona? Andai le che va... Sì Sì, sì Ecco lì, ecco lì, ecco lì Nooo Aha, aha Go, go, go! Dove sono i bastardi? Oh, però Stanno solo in ascolti Ne le case, ne le... Sì, sì Ecco lì Ecco un altro Megazote Megazote Questa era Polly Faffanculo tu col tuo... Caro armato del cazzo Faffanculo Ai usit un Polly Ha, 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 ha Ai vazut, ma? Ti? Uite, cu cluicidita acolo, tu tradeai înainte, eu trageam pasang, aude ai pasang aici Uite, sunt pasang acolo Ascimile tra sinistra, ci sono dei bastardi Atenzione Cassius Guarda, 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 come stai passato? Si no, s-a agerzato, s-a avuto Ma, da buona coltelare, fiam, mi spai, aaaaaa Fa in culo Vai tras, mani Atento, dietro E' un uomo No, fa in culo Guarda il papillon Guaro, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, sotto di te Ce l'hai sotto di te Aspetta No Eccolo, guarda Oh, cazzo, mi ha sparato un sniper da dietro Fa in culo, va davanti, non so A dove scappare Uuuu Un altra auto mea e gaso Aaaaaa, papilon Am luat cu putin dupo papilon Nu luresc, e una aici Uite, doi si daa Erau doi acolo, vezi ca sunt doi, uite, uite Aici No, nu l-ai avea Aaaaaa 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 Iuuu Bava da, cine-a dat-o fraierul Era cu acasca de davante a te Cu eu Nu, pe l-au țeles La a contelat-o La a contelat-o, Jim Wicks La a contelat-o eu Aaaaaa Uite, 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 uite L'acqua, l'acqua! L'acqua dentro, l'acqua! Che bello! L'acqua l'acostellata il tocco leonato di John Wick! L'acqua, l'acqua, l'acqua! Udiva il mone, in spazzola! L'acqua ancora! L'acqua, l'acqua! L'acqua, ragazzi! Non, non, non poteva! Anche dentro l'acqua, dove eravamo prima! Sì, sì, ma è stato bello! Bovaro voleva ascoltelarlo, però l'ha scarato! E io dietro di Bovaro! Uo, la Nemesis! Ma sa quante Nemesis, guarda! Ma con una marea di Nemesis! 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 Fugge, fugi, fugi, Alex! In casa, in casa! In casa, in casa! Spacchili tu! Ah, uguali! Alfa! Alfa! Eccolo, ecco! Non è medico, è medico! Eccolo, ecco! Nooo, sei bloccato pure a me! Nooo! 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 Ah, per tua fortuna sei adorabile! Altrimenti te l'hai già venduta al Grand Circo! Lo sai, un circo! Non è la vostra famiglia, ma si paga per vederlo! Sì! Ci ci sono anche la ventisettissima volta! Uff! Anche io ero una mimba vivace, ma non si può da velocità sonica! Uff! Grazie a tutti.